Generazione Erasmus al potere, una riflessione che vuole sprunare i giovani studenti italiani ad affrontare la sfida dell'Europa per creare più esperienza e formazione nel proprio percorso universitario, per poi creare nuove storie di successo nella propria terra. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Sandro Gozzi, incontra gli studenti dell'Ateneo di Chieti. Noi vogliamo che i nostri giovani girino l'Europa, girino il mondo, ma che anche abbiano fiducia in un'Italia che deve continuare e tornare a dare delle opportunità. Mi piacerebbe anche che, oltre che fare rientrare dei cervelli dall'estero italiani, venissero anche dei cervelli stranieri in Italia ed è questo il senso delle riforme che il governo sta facendo e anche della scommessa sulla nuova politica della ricerca. Una visita istituzionale riferita anche al tanto atteso referendum costituzionale di ottobre. Uscire dall'immobilismo, uscire da una democrazia che non funziona, avere una democrazia che decide in tempi rapidi con leggi di qualità migliore, credo che questa sia una riforma che permette all'Italia di tornare a funzionare come gli italiani vogliono e permette al nostro governo e all'Italia di chiedere poi un cambiamento all'Unione Europea perché se cambiamo l'Italia saremo anche più forti per cambiare un'Europa che va assolutamente migliorata. In tempo di Europa è impossibile non pensare alla situazione di forte perplessità espressa dalla Gran Bretagna. Il Brexit diventa una riflessione che molte nazioni come la Grecia avevano già avanzato in precedenza. Nuovi equilibri e soprattutto la possibilità di ripercussioni indirette anche per gli stati UE. I danni economici io credo che siano limitati per l'Italia. Credo che la questione sarà una questione politica nel senso che dovremmo subito uscire dallo status quo perché ci sarebbe un rischio di effetto domino che noi vogliamo assolutamente evitare. Io credo che se il Regno Unito uscisse sarebbe negativo per l'Unione Europea e sarebbe catastrofico per i britannici e spero che questo sia nella testa e nel cuore di tutti i britannici che andranno a votare.